Meno uno, due ventiquattro, ma attenzione, questi non sono mai morti Quindici intanto per Tessa e Verona, meno uno Sei quattro, sei cinque, poteggio basso, come erano le previsioni Roldo Negri continua a palleggiare, anche qui cambio difensivo, prova ad accelerare in faccia alla Ualla Parabola alta, non va, Buccevici su ribalzo, li apre su malaventura, che non esita a tirare da tre Tutti sono collassati dentro la difesa, Buccevici su ribalzo e canesto di malaventura da tre Rimessa a lato, quattro punti di ritardo per Verona con un minuto tondo sul cronometro Palla per Malaventura e scorre il tempo Più quattro Casale che vuole giocare chiaramente al limite del 24, anzi del 14 Regrazzano l'attacco, sette per il tiro Buccevici su Malaventura resiste al ritorno dell'avversario, prova a scaricare da tre punti Malaventura, si porta a casa la qualificazione 11 punti e io l'ho detto, chirurgici, 6-6, 7-3, 47 secondi a giocare Chiama per forza, time out, Ramagli Bisogna toglierci il cappello di fronte a queste due triple di Malaventura E quella di Ware, perché quella di Ware poi ha fintato due volte Ma Malaventura, cioè si vede proprio il giocatore di esperienza Non ha più sbagliato, e da quando è cominciato in grana ha più sbagliato Sì, e ha tirato sempre con le mani in faggia perché uno potrebbe pensare Non c'era solo l'ultima, era libero, ma ci stava Uno potrebbe pensare alla cattiva difesa di Verona Invece la Tizenis ha difeso fino in fondo